Che ci fai? Me ne va? Vattene via! Che volevi fare? Che stanno facendo quei bastardi? Ehi! Accosta, accosta! Forza! Ehi! Ti piace, eh? Ehi, voi! Ma che diavolo fai? Che stanno facendo, eh? Che cazzo vuoi? Che cazzo fai? Sottigli affari tuoi assali! Vaffanculo, muoviti! Che volete fare? Sali in macchina! Sei sordo, forse? Rimetti quel culo nero in macchina! Sbrigati! State giù, state giù! Una pistola! Arrivati! Sparti, vai! Il rapper e attore Tupac Shakur è stato arrestato ad Atlanta per aver sparato due poliziotti. I poliziotti stavano attraversando la strada quando un'auto che proveniva a forte velocità li ha quasi travolti. Cavolo, erano in borghese! Come potevo saperlo che erano sbirni? Hai rischiato grosso, bello. Sei stato fortunato, Pac. Sì, lo so, credevo che fossero solo due schizzati che se la prendevano con un fratello. E in un certo senso è così perché le pistole le avevano rubate dagli armadietti dei colleghi non erano le loro.